Luca però lo special one che non sta dimostrando quello ad oggi ricordiamolo perché ragazzi non è che ci scordiamo gli otto gol col bodo perché sennò basta 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 no 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 proprio delle troppo è successa questa cosa qua quindi paio showmourdeff che viene a fare il praticantato qua mi vengono i brividi perché un giocatore che c'ha 27 anni e viene a fare le prove qui ragazzi ho capito purtroppo questo l'ha voluto Mourinho quindi showmourdeff un altro errore mi dispiace Mourinho non mi faccio passare più nulla ma non era arrivato prima di Mourinho no no è stata ballato da lui Mourinho a maggio è arrivato Mourinho a maggio è venuto quando io dissi 0% lo ricordo quindi Harry scusa lo chiedo per youtube perché così Daniele ha il titolo secondo tu pensi c'è la paura bodo con Lecce? A Roma ragazzi se esce con Lecce licenziamento per Mourinho e tutti i giocatori perché memory di tutto quello che è successo ragazzi se Roma perde con Lecce in casa vabbè non lo so che facciamo i complimenti li giustifichiamo non lo so quindi se esce dalla Copitalia Mourinho ci dimette no in quel caso tutti sul carro di Camelio beh beh ma già adesso devo dimontarci guarda è pronto lo dice uno sempre uno che era per Mourinho è quindi figura di Luca io non è infatti tanto che non avevi detto che arriva il Mourinho si era per Mourinho però poi giudichiamo i fatti se no facciamo solo i tifosi magica Roma con 6 g e va tutto bene non funziona così va tutto male invece perché la Roma ricordo se il Torino vince va a un punto dalla Roma il Torino che non ha fatto mercato se siamo contenti così ok ragazzi Sciscione vedo nei suoi occhi una speranza di una grande serata no sei ridicolo Agus sei ridicolo no aspetta stavi crogiolando dicendo mamma mia no 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 Camelio però lei non rida perché veramente non tira acqua al suo mulino eh perché Agus e Paragulo no io posso sperare però non ci credo cioè se devo fare un pronostico secondo me la Roma stravince oggi perché comunque Lecce è una squadra che ha anche pure un'onesta squadra di Serie B ce la metterà tutta ecco speriamo che riesca a fare forse la miglior partita della stagione potrebbe non bastare il miglior Lecce per passare il turno ecco cioè dici che la Roma se a un certo punto accelera come ha fatto ieri sera l'Inter con l'Empoli poi alla fine c'ha l'Inter con l'Empoli abbiamo visto con la qualità cioè la qualità fa la differenza anche quando giochi male cioè la partita a un certo punto era molto equilibrata poteva finire una maniera o nell'altra l'Inter fa un gol in sforbiciata e un gol con un tiro fuori dall'area di rigore l'Empoli ci ha avuto due ripartenze secondo me una molto promettente però sbagliano la qualità degli passaggi e quindi finiscono quindi la partita finisce col passaggio del turno dell'Inter quindi secondo me è chiaro che Lecce potrà avere potrà fare la partita perfetta però se la Roma non si suicida passa il turno no anche perché Lecce non è non è l'Empoli e quindi la Roma meno di sbarioni clamorosi che possono succedere come ci insegna la nostra storia recente quando ci fu quell'eliminazione storica agli ottavi contro lo Spezia allora in Serie B ci fu una sorta di ammunitamento allora contro Garzia però se prendi queste partite sotto gamba va a finire che poi non ne esci più e rischi di sprecare energia magari andando ai supplementari e dunque giocando un'altra mezz'ora Lecce ragazzi in Serie B e Quinta sta facendo un buonissimo campionato con una partita in meno quindi potenzialmente è addirittura seconda quindi sta facendo un bel campionato Serie B diciamo in ultimi anni si è dimostrato che si corre molto quindi secondo me oggi comunque vada sarà una partita dispendiosa credo prima di no beh vi dico la verità Augu io da un certo punto di vista mi piacerebbe molto non me ne vogliono i tifosi del Lecce che amo a differenza di altri tifosi perché mi hanno regalato tutta la loro muta però vedere un Lazio-Roma o un Milan-Inter a ritardarti se a Bari non ti invitano mai dopo queste dichiarazioni poi andiamo avanti ah perché c'è rivalità vabbè tre giallorossi sono la squadra più simpatica della Serie A della Serie A insomma del Palermo Grazie a tutti